Ciao a tutti e benvenuti su Gossip Diva, condividete liberamente i nostri video, grazie! Oggi parliamo delle novità scottanti dal mondo di uomini e donne. Nella seconda puntata della nuova stagione, che vedremo Terra a pochi giorni, è tornata in studio Ida Platano, assente nella prima registrazione. Durante la puntata, Ida ha parlato del corteggiatore Mario Cusitore, che durante l'estate l'ha pressata parecchio. Sebbene Mario non fosse presente in studio, Ida ha chiarito che ha chiuso definitivamente con quella situazione. Maria De Filippi ha offerto a Ida un posto nel parterre femminile del trono over, ma lei ha gentilmente rifiutato, anche se la conduttrice le ha fatto sapere che un posto per lei ci sarà sempre, qualora cambiasse idea. Passando al trono classico, è stata presentata la nuova tronista, Martina de Joannon, che ha subito fatto parlare di sé. Ha infatti deciso di eliminare tutti i suoi corteggiatori, inclusi nomi come Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi. Ma non finisce qui! Anche i volti storici del programma sono tornati in scena. Raffaele! Che in passato aveva corteggiato Barbara, ci ha riprovato, ma è stato rifiutato di nuovo. Gemma sembra essere interessata a lui. E, come sempre, non mancano le scintille tra Armando e Aurora, anche se lei questa volta ha deciso di non alimentare il conflitto. Rimanete sintonizzati su Gossip Diva per tutti i dettagli e il retroscena della nuova stagione di Uomini e Donne. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e condividere questo video. Grazie a tutti!